Adesso chiamerei sul palco il Cavaliere del Lavoro Brunello Cucinelli, assieme al nostro moderatore Enrico Mentana, che saluto formalmente, che ringrazio anche di darci costantemente ogni anno la sua adesione e credo che ormai faccia parte del sistema Medinite anche lui. Interessante, buono a sapersi. Buongiorno a tutti e buongiorno soprattutto al Cavaliere del Lavoro, che bello ricordarlo ancora una volta Brunello Cucinelli che questo titolo di Cavaliere se l'è conquistato sul campo proprio anche qui tra l'altro. Pare ieri che Brunello Cucinelli, senza mancare di rispetto a tutti gli altri, partecipava a quelle nostre tavole rotonde qui in cui erano in 40, 42, 43. Oggi giustamente lo vediamo assurdo al rango di grande figura di questo tipo di incontri per aver fatto della sua storia una storia di successo meritato e coronato, ancora l'abbiamo visto nelle slides, da una performance in borsa assolutamente straordinaria, in cui non dico che fosse l'unico a crederci, ma all'inizio con la sua terapia francescana, diciamo, rispetto all'evoluzione di quella straordinaria avventura che ha messo in piedi in Umbria, insomma con tutto questo è riuscito veramente a fare qualcosa di veramente eccezionale. Ma detto finiti i complimenti, allora è difficile entrare in sintonia con una situazione, una fotografia che abbiamo appena visto da parte di chi ha dimostrato che si può fare. Allora innanzitutto il quadro complessivo, come lo vede Cuccinelli? Seriamente lo vedrei abbastanza bene, anche più che abbastanza bene a livello mondiale così nel 14 e nel 15, è chiaro che io credo che per la nostra, se volete, splendida Italia un po' impaurita, dobbiamo accettare che una parte di manufatti non sono più di nostra competenza. Io credo che se noi avessimo il coraggio di spaccare in prodotti di competenza del nostro paese e prodotti che non sono più di nostra competenza avremmo sicuramente dei dati diversi. Io dico che questi nuovi popoli sono chiaramente affascinati dalle nostre bellezze, dai nostri manufatti, quindi abbiamo molte possibilità. È chiaro, ripeto, solo per la fascia alta. E che significa? Che significa che se noi, lavorando quotidianamente e dando rispetto a colui che lavora, perché dando rispetto automaticamente lei li dà responsabilità, la responsabilità automaticamente genera creatività. Noi dobbiamo chiedere a chi lavora con noi e cercare di capire con loro, ascoltando, che è una cosa che non ascoltiamo tanto più, ma questo lo facciamo tutti onestamente, ma siamo davvero competitivi? Che cosa possiamo farlo per fare? O addirittura questa impresa non è più competitiva. Ecco, quindi per una certa fascia di prodotto, io credo che per l'Italia seriamente debba ancora venire un bel tempo. Ecco, per una fascia di prodotto, restiamo su questa fascia, poi fatalmente scendiamo alle altre fasce, perché abbiamo visto quei dati che Pambianco Junior citava all'inizio, poi ci sono molti che si sono, non dico ridotti, ma che si sono adattati a essere in realtà coloro che fanno il prodotto che poi con un'etichetta diventa qualcosa di molto più costoso e soltanto il 15% poi resta in Italia. Ma stiamo all'eccellenza, diciamo, alla fascia alta. Come tutelarla? Come essere predatori non prede, oppure se in realtà questo conta fino a un certo punto? Ma io intanto devo dire che mi piacerebbe sempre accettare il mondo come è, i cambiamenti del mondo, perché altrimenti si rischia di prendere la parte peggiore. Io non credo che onestamente siamo proprio, siamo tutti in vendita e siamo alla fine, come è il titolo, se volete, no? Ma noi abbiamo una miriade, una marea di imprese. È chiaro che chi vuole acquistare qualcosa deve venire da noi, nella nostra cultura. Noi abbiamo un problema di fondo secondo me totalmente diverso, in questo caso dai francesi. Noi siamo industriali, siamo artigiani diventati industriali. Per noi la nostra impresa è come il nostro figlio, non siamo propensi ad acquisizioni, non siamo propensi a metterci insieme. E questo figlio vorremmo che durasse per l'eternità. Anzi, come diceva Andrea Guerra, che è sempre ingenio quando parla, forse a volte ci stiamo talmente sopra che rischiamo che il nostro figlio poi, che la nostra impresa se ne va. Ecco secondo me dov'è la differenza. Noi abbiamo una cultura industriale, ma noi abbiamo una miriade di micro imprese che nei prossimi anni o ancora oggi sono presenti nel mondo. Contrariamente ai nostri stimatissimi francesi, sì, che fanno finanza per l'amor di Dio, ma non hanno poi questa micro imprese da 30, 50, 70 milioni di fatturato che possono rappresentare il nostro futuro, no? E chi l'ascoltasse senza conoscere direbbe, è vero, noi siamo l'artigianato diventato industria, loro sono la finanza, però lei è un campione della borsa. No, diciamo, la borsa secondo me per crescere. Io ho scelto la borsa, poi ci sono i fondi, c'è la proprietà privata o c'è la vendita totale. Ma anche di questa vendita totale, diciamoci la verità, ai meno giovani come me, io sono entrato quest'anno nel sessantesimo anno. Ma lavorare oggi, e questo me lo confermava Andrea Guerra che ha 48 anni, il fisico si lacera più che 30 anni fa. Non possiamo pretendere che a 55, 60, 65 anni andiamo una settimana in Sud America, una settimana in Cina o in India. Noi abbiamo bisogno di forze giovani. Allora, se quando tu arrivi a quell'età lì e hai un giorno magari negativo e sei stanco, le possibilità di cedere sono sicuramente più alte. Quindi dobbiamo avere il coraggio di inserire giovani vicino a noi, in questo caso come è successo per me, quotarmi in borsa perché pensavo che la quotazione in borsa mi desse la possibilità, desse la possibilità a questa azienda di vivere forse 100 anni, desse la possibilità a questa azienda di essere più internazionale. Guardate che seriamente quello che io ho portato a casa, ascoltando gli investitori voi non potete credere. Non avrei mai avuto nessuna società di consulenza sempre se si ha il coraggio di ascoltare che ti dà quello che ti dà in questo caso 100 investitori. Quindi se tu hai il coraggio di accettare, se tu hai il coraggio di automaticamente cerchi il cambiamento. Certo che non è facile perché vedete quando si è successo non ascoltiamo ma questo non ascoltavamo 30 anni fa, non ascoltiamo oggi. Siamo pieni di informazione, siamo convinti di sapere e se non ascoltiamo il nostro brand se ne va, capisce dove sta il problema. Capisco bene, è importante, lei ha portato a casa tanti consigli di investitori, però ha portato a casa anche altro, con la quotazione in borsa qualcosa di… di soldi, ha portato i soldi. Di ben più soldi, non importante come consigli di investitori, però… Allora, quando si è colpiti da un improvviso benessere da quel punto di vista finanziario, quali sono le priorità, cioè cosa si fa? Si mette in campo un piano di crescita modulata, si insiste su alcuni aspetti, sull'estero, come se l'è giostrata? Intanto vorrei dire che qui ci sono molte aziende che possono quotarsi, io vorrei convincerlo a farlo, seriamente. Non parlo del privato, sì il privato è un po' più ricco, ma vivo in un paese, guardate, insomma, non è che abbia qualcosa di particolare, però l'azienda è più internazionale, è più aperta, è molto solida, può affrontare il mondo in un modo diverso, può cogliere quella marea di opportunità che l'umanità ci dà, perché guardate che le nostre imprese hanno una marea di opportunità, dobbiamo coglierle, per coglierle dobbiamo ascoltare. Abbiamo i mezzi, abbiamo gli esseri umani, abbiamo le competenze, quindi secondo me non dobbiamo aver paura. Io personalmente penso che è stato trattato un tema molto forte, è quello del valore della produzione. Noi, questi manufatti speciali, di cui si diceva prima, possono farlo solo esseri umani. Come possiamo noi a questo punto convincere giovani a venire a lavorare nelle nostre imprese, 23 anni, fare un lavoro sulla carta non nobile, perché i mestieri non sono considerati nobili, sotto il profilo economico abbastanza basso come stipendio, perché diciamo la verità, sono mille euro, ma se noi perdiamo i mestieri abbiamo perso il nostro manufatto. Allora dobbiamo lì tornare a dare nobiltà morale ed economica al lavoro, perché questo è il nostro futuro. Avete visto che noi produciamo il 60% di prodotto per i nostri amici stimatissimi francesi, con le nostre mani, con i nostri mezzi. Noi dobbiamo preoccuparci dei nostri collaboratori esterni, ma se noi ne approfittiamo un po' troppo diventa un po' difficile. E forse ridico la stessa cosa, un prodotto che esce a livello industriale a 350 euro va in vendita in Via della Spiga 1000, su quei 350 euro ci sono 70 euro di manualità. Possiamo noi forse darne 100 euro? Troveremo 30 euro fra l'azienda e Via della Spiga? Sì, questa è la verità. Quindi noi dobbiamo curare i nostri manufatti, dobbiamo convincere i giovani. Guardate, ho fatto una cosa abbastanza carina, non sono qui a fare pubblicità su questo, però al paese abbiamo aperto una decina di scuole. C'erano prima la scuola di teatro, la scuola di danza, la scuola di canto, quindi le arti, che non sono chiaramente remunerate. Vicino abbiamo messo queste sei o sette scuole, la scuola di muratura, la scuola di giardinaggio e agricoltura, la scuola di tessuto, e voi non potete immaginare che richiesta abbiamo avuto di questi giovani. Ha una condizione però, lavorano nello stesso ambiente, in ambienti carini, si frequentano con il regista di teatro, con colui che sta facendo il corso di danza, tutto diventa nobile. Da lì dobbiamo ripartire, dalla non vergogna che andando in discoteca abbiamo dicendo che facciamo la sarta piuttosto che il muratore, facendogli capire però che forse fra due anni può anche guadagnare 3.000 euro al mese. Certo, questo è un... È bello a sentirsi voleva dire. No, no, io ho imparato una cosa, chi la sente per la prima volta dice è bello a sentirsi, questo è un sognatore, poi però appunto vede i numeri, vede i numeri e dice allora ascoltiamolo con attenzione. Ho imparato da te, da prima della borsa ad ascoltarla senza... Guardate che non avrei mai immaginato che questi grandissimi investitori, fondi americani, inglesi, accettassero con molto piacere una crescita garbata, un lavorare senza ricardarmi all'umanità, una vita normale di un'impresa. Sapete che le banche all'inizio mi dicevano vedrà, lei dovrà raccontare qualcosa diverso, in questo caso Mary Lynch e Mediobanca che però si sono convinti facilmente. Ho detto io provo a raccontare ciò che siamo. Ho chiesto a loro di portare otto mesi prima, nove mesi prima, della quotazione sei mesi prima questi investitori da noi, facendogli conoscere l'azienda, facendogli conoscere esseri umani, mangiando a casa mia, con la mia famiglia. Quando siamo andati in roadshow è stato tutto molto facile e posso dire che a quasi due anni di distanza non ho avuto un investitore che mi ha chiesto di cambiare politica e abbiamo affrontato questo parlando della dignità del profitto. Ma siamo proprio convinti che tu devi comprare una giacca di cashmere in questo caso a 3.000 euro e io che mi informo vengo a sapere che l'hai prodotta in qualche maniera arrecando danni all'umanità nel senso pagare pochissimo, forse non la compri più. Quindi io credo che possa essere un tema fortissimo questa idea del profitto sano. Parlavamo con Norsa, ma non possiamo crescere sanamente del 10%, dell'8 un anno che va male, del 12 un anno che va bene, ma un'azienda che cresce il 30% è sana? Secondo me è difficile curare prodotto, crescita, garbo, cultura in un'azienda che cresce rapidamente. Quindi mi sembra che anche la finanza torni a lavorare con rispetto dell'industria e noi siamo di cultura industriale. Senta Cuciniani, torniamo a quella giacca da 3.000 euro, cosa sarebbe giusto allora? Io acquirente arrivo e pago quei 3.000 euro, quanto è giusto che vada a chi artigiano, a chi lavoratore, a chi? Guardi, allora se un nostro operaio guadagna 1.000 euro al mese e ci costa 2.200, io non chiedo che ci deve costare meno, mi piacerebbe molto se lui guadagnasse 1.500 euro, mi piacerebbe se il nostro cosiddetto fasonista, che sono micro imprese da 15 persone, 20 persone, se guadagna bene convincerà il figlio a fare questa impresa. Sapete, seriamente, vi dico, noi abbiamo fatto un lavoro molto forte 20 anni fa con queste micro imprese. Oggi l'età media dei nostri, diciamo, fasonisti è 39 anni perché hanno convinto i figli a restare. Ed è tutto sul territorio? Beh, diciamo, molto in Umbria, ma abbiamo anche Toscana, in Italia ci sono cose di grande qualità, ma non possiamo nasconderci dietro a questo, non possiamo nei meeting predicare esclusivamente il valore dei nostri manager. Ma chi fa una giacca a mano? Chi cuce? In questo caso, vedete per esempio una cosa molto carina si è verificata nella scuola, questi ragazzi hanno l'iPad, il laser, l'ago, il filo e forvici. Io credo che anche l'artigianato sia diventato contemporaneo. Cioè la dall'ara che fa macchine da corsa e taglia il carbonio con le forvici come un sarto, non è un artigiano contemporaneo? I miei amici che fanno pistoni a mano per la Boeing sono artigiani, ne fanno uno. Quindi il valore dell'artigianato come intendeva William Morris, l'arte e il mestiere, misceliamoli con la stessa nobiltà economica e morale. Cucinelli, adesso però andiamo da quelli che non sono nella fascia alta, che sono lì sempre sospesi tra successo e rovina, dico proprio in termini piatti, e che negli ultimi anni hanno visto più da vicino la seconda che il primo. Chi ha più responsabilità è chi ha più successo, per forza, lei lo sa. E d'altronde una grande impresa solidale come la sua porta, ripeto, lavoro delle microimprese, porta tanto alone indotto. Ma che si può fare per il sistema? Intanto secondo me dobbiamo avere il coraggio di ascoltare il mercato. Solo il mercato ci dice se la nostra impresa è competitiva. Questa è la realtà vera. Quindi dobbiamo avere il coraggio di dire, sono stato per 40 anni un magnifico imprenditore, ora il mondo è cambiato, perché è cambiato, stiamo ridisegnando l'umanità, in questa nuova umanità non va bene questo tipo di impresa. Quindi dobbiamo far sì, dicevo in qualche maniera, se ci fosse la possibilità addirittura di non chiamarlo fallimento, ma chiusura rapida, se non vi è dolo, perché non possiamo lavorare cercando che questi esseri umani tornino a produrre, a progettare in quella fascia alta del mercato che è di nostra competenza. Come? Come ne si coinvolge? Con il ruolo che già lei assegna alle microimprese? Cioè si viene attratti da una stella come succede ai pianeti? Noi possiamo coinvolgerli solo dando rispetto. Guardi che se io le do rispetto lei ha un tasso di responsabilità paurosa. Se lei ha un tasso di responsabilità paurosa domani diventa fortemente creativo. Però deve anche sapere e capire che io l'ascolto. Se lei è creativo e noi ci ascoltiamo, le possibilità decisionali sono facilissime e costruttive e probabilmente contemporanee. C'è qualcuno da cui lei ha imparato dei grandi del suo settore? O la sua è una storia totalmente laterale, parallela rispetto alle altre? Io ho avuto due grandi maestri. Uno gli occhi di mio padre veniva umiliato e quindi ho detto io non faccio quello che è stato fatto a mio padre e miei fratelli, non ne voglio sapere niente. Non voglio vedere un padre e non voglio essere responsabile del malumore, del male spirituale dei miei dipendenti. Questo sicuro. L'altro a un certo punto c'è questo Marco Aurelio, imperatore, che lui deve gestire l'impero, deve prendere decisioni importanti. Nonostante questo scende in campo e gli dice o mi hai stimati uomini dell'impero romano, domani Roma ha bisogno di noi, ma se lei viene da me e mi dice o mi hai stimato amico, come possiamo fare per migliorarci? Ci sono gli acquazzoni, tu vai in fabbrica e trovi 30 persone che vengono a vedere se si è lagata. Qualcuno gli ha detto qualcosa? No. Questa è la responsabilità e noi in Italia ce l'abbiamo. Abbiamo uomini che lavorano con noi, che hanno il senso della responsabilità, della civiltà, dell'attaccamento, che lavorano con tolleranza, con dignità, con rispetto a umanità. Guardi che il prodotto si sente, il prodotto è più creativo. È solo un male che o è prevalentemente un male o è prevalentemente un bene che in tanti lavorino per l'estero? molti ci direbbero, scusi è completo la domanda, molti ci direbbero ma non è estero, la Francia è comunque Europa, è il nostro mercato, non c'è nulla di male, quei dati vanno interpretati anche alla luce di questo, dobbiamo sempre ricordare che è il mercato interno eccetera invece? Ma guardi, se da noi si producono manufatti di grande qualità, c'è cultura, perché dobbiamo avere paura? Di che cosa dobbiamo avere paura? Questo mondo intero è affascinato da noi, ho dormito questa notte qui in un albergo dove mi ha detto il direttore stamattina, completo, principe di Savoia, ma dico che sono venuti a una fiera? No, non c'è niente, a colazione alle sette e mezzo era pieno, orientali, che vengono qui per conoscerci, di cosa possiamo avere paura? Allora dobbiamo accettare questa novità del mondo, questo cambio dove in questo cambio del mondo l'Europa è al centro, ma in questa Europa noi siamo i privilegiati, sotto il profilo estetico, culturale e del manufatto, noi dobbiamo tornare ad investire nel manufatto di grande qualità. Lei si sente un po' un artista rinascimentale, ma guardi, un rappresentante di un nuovo umanesimo, però vi posso dire una cosa, andando la mattina a visitare questi ragazzi a scuola, quello che fa il muratore, l'altra che cuce, quello che scende giù a danza, porca miseria ma sono meravigliosi, perché? Perché si sentono quasi equiparati nel tipo di mestiere, tra il mestiere e l'arte, capisce? Ma se perdiamo il mestiere? Quando parte della bottega, nel senso della bottega, questo era il rinascimento, ma... Scusate che ve lo dico con un po' di animosità, ma ci tengo. Ma che sia appassionato nessuno glielo toglierà mai, è difficile, è difficile, non la scambierà mai nessuno per un finanziere, su questo stia assolutamente tranquillo. Questo mi fa piacere. Guardate, grazie. Dalla quotazione, siccome non ho risposto in parte a quello che mi diceva lei, personalmente ho preso un po' di soldi. Sapete dove sono? Nelle banche italiane, divise in parti uguali in quelle banche che mi hanno aiutato a crescere. Il rischio paese. Ma dov'è il rischio paese? Dove vediamo questo rischio paese? Scusi che l'ho interrotta, eh? No, che è interrotta. Prima non gli avevo risposto sulla cosa personale, però vivo in un paese, quindi... Poi dice mio babbo, ma che vuoi essere più ricco del cimitero? Io non voglio essere più ricco del cimitero. Ah, scusi. Scusi, Montano. Senta, un'ultima domanda, perché la sua è una meravigliosa storia di successo, la voglio concludere altrettanto bene. Quando lei vede i grandi, gli armani, che ancora progettano e hanno vent'anni più di lei, vent'anni erotti più di lei, lei che dice sono entrato nel sessantesimo e quindi pesa l'età, cosa pensa nel futuro? Cosa vorrebbe fare? Come vorrebbe andare avanti in questo percorso ascendente, ma senza sussulti, o fare qualcosa di completamente diverso? Bellissima la domanda. Io sono entrato nel sessantesimo anno e penso che la vecchiezza credo che possa essere la parte forse più bella della vita, perché è la parte dell'anima. Tornando alla praticità in azienda, noi abbiamo una marea di ragazzi che sono co. Quindi lei ha il CFO 51 anni e il co che ha 34 anni. Io dal primo gennaio avrò il mio co che ha 32 anni, ma sono co, non sono collaboratori normali, capisce? Quindi hanno un tasso di responsabilità alta. Adesso vi dico una cosa che mi ha detto l'altro giorno Andrea Guerra, che mi ha fatto pensare. Ha detto, nella nostra impresa siamo parecchie persone che hanno 47-48 anni come me. Sapete che cosa? Sai che cosa non mi fa dormire? Che forse incominciamo ad essere vecchi. Allora, se noi abbiamo il coraggio di miscelarci, bene, di avere giovani vicino a noi e di trasferire i saperi e di avere anche il coraggio di fare un passo indietro, ma scusate ma noi a 60 anni, 65, possiamo immaginare la nostra azienda tra 15, 20 e 30 anni? La mattina non abbiamo digerito, ci fa male una spalla, siamo stanchi e la verità, devi andare domani a New York? No, non ho digerito, non posso andare a New York. Ma guardate che questa è la verità. Quando tu lavori con gente che ha 35 anni... Ma il suo co è un dietologo, il suo co... Guardi, io non le nascondo che i grandi dicono che per rimanere un po' così nella vecchiezza devi fare dieta misurata e molta ginnastica. La ginnastica ci provo e non mi pesa, la dieta mi pesa da morire, che se trovo uno che fa la dieta per me lo faccio diventare ricco vero, ricco vero. Però diamo peso ai giovani, cerchiamo di trasferire a loro serenamente, ai nostri figli, ai nostri nipoti, la gioia di vivere e di vivere in un paese speciale, in un paese che si sta riorganizzando ma che ha saperi. Vedi come... Questo non deve concordare con me. Siamo in un momento di rinascita, d'accordo con me? Politica, morale, economica, spirituale. Veda che cosa ci sta dicendo sto Papa. Ma questo è un genio dei rapporti umani. Perché noi non torniamo ad avere questo rispetto con i nostri collaboratori? Quando lui ci dice chi sono io per giudicare. Sentitevi custodi del creato. Infatti a me se mi dice ma che ti senti? Ma io vorrei essere un piccolo custode protempore di una parte del mondo che ha lavorato per la dignità umana. Vi dico la sincerità. Però immaginando sempre che le grandi idee devono venire tassativamente dall'anima. Non possiamo immaginare che con la mente governiamo tutto. Ci deve essere una fusione tra mente e anima. Una bella idea che parte dalla mente e passa per l'anima è sempre una bella idea. Enrico, mi creda? Le credo. Sulla parola. Grazie a Brunello Cucinieri.